Un ferragosto diverso rispetto al solito mare. Abbiamo visto mangiare dei lemuri, dei concomeri, dei fattuccini. È stato molto bello, soprattutto per i bambini. Secondo noi la scelta migliore, perché ci sarebbe stata comunque confusione un po' dappertutto. Mi è piaciuta tantissimo, è una bella giornata, siamo passati bene. Sono delle tecniche ormai negli zoo europei abbastanza consolidate. Sappiamo che per alleviare il caldo per questi animali, che anche venendo da climi tropicali, comunque risentono di queste temperature, sappiamo che ci sono dei metodi. Quindi si può dare della frutta molto ricca d'acqua, oppure anche dei ghiaccioli. Per molti animali è un attimo di refrigerio, ma è anche un modo per fare quello che si chiama in termini scientifici un arricchimento ambientale, ovvero sia dare agli animali la possibilità di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso quel giorno. La risposta è buona, abbiamo sempre un grosso gradimento da parte del pubblico. Credo che sia apprezzato lo sforzo che loro vedono che ci mettiamo nella cura degli animali. A vari orari durante la giornata si può vedere i tipi di arricchimenti ambientali, oppure i pasti, oppure comunque tutti quei giochi che mettiamo in campo per far passare il tempo agli animali. Qui al biovarco di Roma spediamo quattro scimpanze, un maschio e tre femmine. Gli darà dei ghiaccioli, se hanno voglia di venire vengono, di solito con questo caldo hanno piacere a prendere un po' di ghiaccioli. Gli darà dei ghiaccioli, se hanno voglia di venire vengono, di solito con questo caldo hanno piacere a prendere un po' di ghiaccioli. Gli darà dei ghiaccioli.